Non sarà apprezzato e conosciuto quanto il centro storico di Santerasmo a Geeta, però il borgo, attraversato da diversi chilometri da Via Indipendenza, è senza dubbio un quartiere importante della città da rivalutare e promuovere sotto l'aspetto culturale e turistico. Un primo agglomerato abitativo nasce nelle adiacenze di un antico castello fuori le mura della città fortezza e nel corso dei secoli è diventato un luogo di ampia densità demografica di una popolazione che fino al secolo scorso era attiva nel lavoro della terra e sul mare. Con un reggio decreto del 15 marzo del 1897 diventò comune autonomo separandosi per un breve periodo dal quartiere di Santerasmo prendendo il nome di comune di Elena in onore dell'allora principessa futura regina d'Italia. Una divisione che durò circa 30 anni a seguito di un'ampia riorganizzazione territoriale i comuni di Geeta Santerasmo e di Elena vennero definitivamente uniti sotto il nome di Geeta. Un quartiere storico che conserva al suo interno diversi ed interessanti reperti archeologici, culturali e religiosi. Passano quasi inosservate ma sono in realtà un'importante testimonianza del patrimonio devozionale dei residenti di Geeta nei confronti della Madonna. Stiamo parlando delle edicole mariane, piccoli altari dedicati per lo più alla Beata Vergine e presenti in tutti i vicoli di via indipendenza a Geeta, un tempo borgo marinaro ed oggi quartiere multietnico. Queste edicole che furono installate a partire dal XVI secolo sono ancora oggi un luogo di preghiera da parte dei devoti ma costituiscono anche un certo valore economico e pertanto sono esposte a furti sacrileghi come è accaduto in passato all'edicola presente tra la seconda e terza salita a castello. Pertanto i residenti invitano l'amministrazione comunale ad avere maggiore attenzione ponendo quanto possibile per la tutela di queste bellissime edicole mariane ma nello stesso tempo auspicano una promozione del borgo in previsione dell'imminente stagione turistica attraverso l'installazione di alcuni pannelli che indicano un percorso da seguire alla scoperta dei tesori custoditi nei vicoli di via indipendenza.